Musica Bentornati all'appuntamento con le previsioni a cura di Meteo One. Sul lato orientale del campo di alta pressione presente sull'Europa centrale scorre aria più fredda. Nel Mediterraneo invece una blanda perturbazione interesserà i settori più meridionali. Mentre il Nord Italia sarà ancora protetto dal promontore anticiclonico, portatore di bel tempo e nerbia al mattino e sera. L'estremo sud e soprattutto le isole verranno interessate da questo flusso più umido, legato alla bassa pressione nordafricana che determinerà moderato maltempo in queste zone. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per mercoledì 7 dicembre. Al mattino cielo molto nuvoloso sul Salento e settori ionici con possibili deboli rovesci, in miglioramento dal pomeriggio sera. Sul resto della regione cielo poco o parzialmente nuvoloso ma con basso rischio di fenomeni e rasserenamenti dal pomeriggio. Temperature massime, stazionarie e un lievamento con valori compresi tra i 13 e i 15 gradi. Ventilazioni debole orientali, mari mossi nello Ionio, poco mossi nel Calla d'Otranto. Oggi per la consulga rubrica La foto del giorno ringraziamo il nostro telespettatore Antonio Nicoli per questa fiabesca fotografia che ritrae l'alba nel Salento. Il freddo sole invernale e la quete del mar alle prime ore del giorno. Se volete inviare la vostra foto del giorno vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Tele Apula oppure alle email che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.